Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi alleremo le braccia. Ovviamente ragazzi siamo alla quarta settimana e quindi il peso rimarrà sempre lo stesso della settimana scorsa per i bicipiti, cioè volevo dire il kart. Ragazzi cominciamo proprio con quell'esercizio, come sempre faremo 16 kg, 26 kg e 36 kg. Ovviamente tre serie per 15, 10 e 5. Prima però andiamoci a pesare e ci vediamo direttamente con la serie. Ragazzi 58 kg, punto 65. Stiamo aumentando di brutto ragazzi. Massa grassa 12,8% ovviamente anche la massa grassa aumenta. Grazie. 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 Ok ragazzi, primo esercizio fatto, terza serie mi è distrutto ragazzi, non potete capire, 36 kg sono pesanti. Ci vediamo con il secondo esercizio. Carlo bilanciere a martello, 3 serie per un 10 peso 26 kg ok ragazzi io vi farò le altre due serie e ci vediamo direttamente con il prossimo esercizio il terzo ovviamente sarà il calo il calo basso ragazzi ci vediamo direttamente lì faremo tre serie per 10 con 14 kg ok questo esercizio non troppo duro quindi settimana prossima passeremo dai 14 a 16 kg ovviamente ragazzi adesso quarto e ultimo esercizio ovviamente reverse curl sempre 20 kg perché questo esercizio è bello tosto non riesco proprio a aumentare qui piano piano si farà anche qua dai ci vediamo con queste tre serie per 10 ripetizioni voi ne avrete solo una ok ragazzi questa volta posso dirvi che l'ho sentito leggero quindi mi sembra che possiamo aumentare la prossima settimana e sarà così ragazzi ovviamente i bicipiti sono finiti io vi farò le ottime due serie e ci vediamo con i tricipiti come primo esercizio ovviamente faremo la french press ragazzi come primo esercizio faremo sempre tre serie per 15 10 e 5 ripetizioni con 10, 20 e 30 kg grazie a tutti grazie a tutti ok ragazzi primo esercizio questo è il fatto l'ultima serie sempre con difficoltà però sento che stiamo migliorando adesso ragazzi faremo pulleys alla corda no scusate no pulleys pushdown volevo dire alla corda 3 serie 10 ripetizioni ragazzi sempre con 18 kg eravamo arrivati con 20 kg con 20 kg questo coltivo facciamo ok ragazzi pushdown fatto adesso pushdown con presa inversa ovviamente con l'asse della lat machine perché non quella piccola ma vabbè sono dettagli funzionano lo stesso ci vediamo all'esercizio 3 serie per 10 invece di 20 kg 18 punto ok ragazzi ultimo esercizio spinta su panca stretta ovviamente spinta su panca presa stretta abbiamo 3 serie per 8 con 34 kg eravamo arrivati e rimaniamo così attra attra ok ragazzi ho fatto le serie come avete visto ho aumentato per questo avete visto anche la seconda io ovviamente ci farò anche la terza con questo peso e poi vi lascio il check fisico e ci vediamo al prossimo episodio ciao